La vocazione parte proprio da mio padre, che più di 50 anni fa ha iniziato lavorando nell'azienda di famiglia, nel settore dell'acciaio inox. Poi, con il tempo, ha creato nuove aziende e ne ha acquistate altre, ampliando la produzione al settore oreca. Ora le aziende produttive sono tre, Artsurf, Lamek e Mittel. Produciamo soluzioni efficaci in acciaio inox per la lavorazione degli alimenti, lo stoccaggio e il mantenimento e la distribuzione. I nostri clienti sono rivenditori di attrezzature per ristoranti, bar, mense, laboratori di pasticceria, fast food, hotel, settore ospedaliero e navale. I nostri prodotti si adattano ad ogni esigenza, abbiamo linee speciali con le quali possiamo creare qualsiasi tipo di prodotto fuori misura. Negli ultimi anni le nuove tendenze ci portano ad adattarci alle esigenze dei nostri clienti, che sono sempre più orientati alla personalizzazione dell'ambiente di lavoro. Con un particolare occhio di riguardo al design e alla qualità dei dettagli. L'acciaio inox si fonde spesso con il marmo, il legno e le pannellature laccate. Siamo presenti in Italia con una rete di agenti e abbiamo molti clienti in Europa. Ci stiamo espandendo anche nel resto del mondo, soprattutto negli ultimi anni. Come vi siete adeguati alla necessità di rendere i processi produttivi sempre più sostenibili? Per ridurre l'impatto ambientale abbiamo dotato, a ciascuno dei nostri stabilimenti, di un impianto fotovoltaico. Questa scelta ci ha consentito di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e di fare la nostra parte nella lotta al cambiamento climatico. Per i nostri impianti frigo, invece, utilizziamo il gas R455A, che è un gas innovativo e altamente efficiente, che influisce in modo nettamente inferiore all'effetto serra rispetto ai refrigeranti tradizionali. Inoltre, le nostre macchine per il taglio laser e la piegatura sono studiate per evitare al massimo lo spreco della materia prima. Il nostro staff tecnico, infatti, è in grado di impostare il taglio della lamiera nel modo più ottimale. Il materiale residuo lo utilizziamo poi per creare dei bellissimi gadget che regaliamo ai nostri clienti durante le fiere di settore. In questo momento stiamo infatti realizzando delle speciali creazioni per bambini, su richiesta della scuola di Sarmede, che prossimamente verranno esposte ad un evento. La nostra produzione è dotata di macchine laser e piegatubi di ultima generazione, che ci consentono proprio di velocizzare il processo produttivo e rendere le lavorazioni più efficienti. Parliamo di giovani. Come fate voi ad attrarre nuove, giovani risorse nella vostra azienda e che tipi di profili ricercate? Allora, collaboriamo da anni con alcuni istituti tecnici della zona, al fine di introdurre i giovani nel mondo del lavoro e creare nuove opportunità. Crediamo infatti che sia importante investire nelle nuove generazioni e in questi ultimi anni abbiamo introdotto molte figure che hanno contribuito allo sviluppo del gruppo Italo Perin, portando tante idee innovative e una crescita costante per il nostro mercato. Siamo sempre costantemente alla ricerca di giovani talenti che vogliano mettersi in gioco e condividano la nostra vision di una spinta innovativa nel mondo dinamico e coinvolgente delle attrezzature per service e ristorazione.